cari amici ben trovati al 51esimo appuntamento con la rubrica angelica continuiamo a parlare di castelli magia e iniziazioni perché stiamo per incontrare una personalità davvero affascinante ossia la personalità di a ascia dei nati cioè tra il 3 e il 7 dicembre questa personalità va immaginata esattamente come la sigla della walt disney di tutti i cartoni della walt disney portate alla memoria la scena di quando compare quel meraviglioso castello e da quel castello di tanto in tanto spunta trilli capace di portare la polverina magica a tutti gli ascoltatori siano essi bambini o adulti quella polverina magica che in realtà vuole rappresentare l'iniziare continuamente a trovare i propri talenti e la propria missione di vita a ascia è una personalità molto mistica molto meditativa infatti per la maggior parte del tempo rimane nella sua torre interiore e da lì nel silenzio e nell'osservazione di se stesso e del mondo riesce ad accedere a intuizioni e conoscenze universali se riesce a fare questo e riesce poi a trasmetterlo a coloro che li circondano brillano in particolare in quella dote terapeutica ossia non solo come medici ma anche come attori o come grandi comunicatori riescono a risvegliare nelle persone la missione di vita lo scopo di vita chiaramente per la maggior parte dei casi risultano abbastanza antipatici soprattutto se sentono quest'isolamento questo scollamento dal mondo ma se con la meticolosità di ogni grande medico non si curano del successo dell'applauso materiale ma vanno dritti verso altri orizzonti portando sempre con loro quella grande forza morale grande fu chiaramente Walt Disney infatti in tutti i suoi cartoni si narrano storie di grandi maestri come per esempio Merlino o il grillo parlante o storie di iniziazioni i grandi baci alle principesse siano esse biancaneve o cenerentola persone quindi addormentate che hanno bisogno di di quel risveglio attraverso quel bacio l'unico grande limite che possono incontrare è proprio rimanere segregati nella loro torre e soprattutto per aderire troppo ai principi morali e meditativi dimenticarsi completamente del loro corpo e possono così prendere grandi cantonate sia perché si ammalano sia perché rimangono come dissociati dalla realtà cioè immaginare un mondo che in realtà non è reale e prendersela con le persone ma persone sbagliate per motivi sbagliati meglio quindi che facciano aderire i loro compiti fondamentali che sono quelli più mistici in assoluto ossia quello di fare silenzio dentro se stessi e accelerare infatti nelle culture antiche la meditazione era proprio quell'unire il silenzio interiore per arrivare a una grande accelerazione della potenzialità mentale e accedere così a grandi risorse di conoscenza che normalmente nel mondo frenetico sarebbero impossibili non abbiano paura quindi di manifestare questa grande levatura morale e personale che sono venuti qui proprio ad esprimere i bambini ascia sentono naturalmente un'attrazione per le storie di magia di avventura e di iniziazione e poi aiutateli esattamente come fece il mago merlino con il piccolo semola hanno bisogno di quell'infusione di coraggio per trasformarsi da bambini impacciati in grandi re capaci addirittura di creare una tavola rotonda facendo questo simulerete in loro quella grandissima dote terapeutica che consiste nell'applicare questa iniziazione che loro stessi hanno ricevuto in una grandissima dote anche lavorativa ascia ci stimola a pensare al nostro scopo di vita alla nostra missione si sente moltissimo parlare ultimamente di mission e vision anche nel mondo del marketing come se la nostra missione possa trovarsi all'esterno gli antichi dicevano esattamente il contrario la missione lo scopo di vita può essere trovato soltanto se si fa silenzio interiore e arrivando in quella torre facendo silenzio intorno a noi e dentro di noi e staccandoci da quello che pensiamo di essere adesso o che gli altri ci hanno indotto a pensare che siamo che possiamo raggiungere un contatto con conoscenze universali e da lì la nostra mente in sostanza va avanti per immagini e Walt Disney l'aveva sintetizzato molto bene nel suo slogan più famoso if you can dream it you can do it ossia se puoi immaginarlo puoi farlo ma è un'immaginazione quella di cui parla Walt Disney staccata dai devo è un'immaginazione libera un'immaginazione che parte dal vuoto prova non costa niente grazie e al prossimo appuntamento grazie a tutti Grazie a tutti.